Un prodotto della terra su tre contiene pesticidi oltre le soglie consentite e quanto emerge dal rapporto di lega ambiente stop pesticidi nel piatto 2021 che mette insieme i dati raccolti lo scorso anno in tutta Italia in collaborazione anche con l'istituto zooprofilattico abruzzese analizzando 36 generi alimentari diversi. I numeri sono in leggero miglioramento ma rimane una fetta consistente di prodotti irregolari. La frutta si conferma la categoria più interessata. Il 50 per cento dei campioni contiene uno o più residui di sostanze potenzialmente pericolose, percentuale che schizza al di sopra dell'85 per cento se consideriamo la sola uva da tavola. L'Italia si sta distinguendo insieme con altri paesi nell'Europa per la riduzione dei pesticidi però dobbiamo fare ancora tanto. È un momento strategico fortemente importante perché da un lato è stata approvata dal Senato la legge sull'agricoltura biologica quindi bisogna accelerare sulla sua promulgazione. Dall'altro lato si sta lavorando sul piano strategico legato alla nuova PAC 2023 che ci mette nella condizione di agganciare quelle stesse indicazioni che la comunità europea ci dà. Dall'altro lato dobbiamo mettere in campo un piano d'azione nazionale che vada in questa direzione. L'Unione Europea infatti chiede agli stati comunitari di riservare all'agricoltura biologica entro il 2030 il 40 per cento dei terreni coltivati. Attualmente in Italia la percentuale si attesta intorno al 18 per cento. Insetticidi e fungicidi aumentano la produzione ma con ripercussioni sull'ambiente contaminando terreni e falde acquifere sterminando gli insetti impollinatori e rappresentando rischi per la salute umana. C'è un rapporto dell'ISPRA che ci dà un dato fortemente allarmante per quanto riguarda le acque superficiali il rischio della contaminazione è al 77 per cento. Poi c'è un altro aspetto da tenere in considerazione che non è solo l'elemento diciamo del singolo agente di chimica che interviene ma è anche il multiresiduo che va tenuto in considerazione. Per promuovere l'agricoltura biologica e le eccellenze del territorio Legambiente e Parco della Maiella hanno lanciato l'iniziativa per un Natale biodiverso. Il Parco nazionale della Maiella ha avviato da un certo diciamo periodo un progetto che si chiama Vola Volè che è nato in collaborazione con la Cantina Orsogna e utilizzando i lieviti diciamo fermentando appunto utilizzando la fermentazione ottenuta dai lieviti presenti nei frutti nelle bacche insomma del diciamo presenti nel territorio del Parco nazionale della Maiella senza solfiti. Quindi il parco ha avviato da tempo un discorso insomma di biodiversità e vuole fare insomma questo questo progetto per un Natale insomma biodiverso.